secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ho fatto io ma tu mi hai messo un mezzo io stavo a parlare tutta altra cosa stava parlare assolutamente un pagliaccio ma smettila perché devi fare ma io non ti che ero è matteo ma pagliaccio ma non è che io ti dico che non devi urla nella vita tua io non urlo ma fattene affanculo adesso c'è pure uno che te imita su ttocco un altro ragazzo nella nostra conversazione rubino ti sfida one v one che fa piacciono a tutti in effetti perché sono sotto effetti effetti sotto sorveglianza stretti sto con una faccia manco mi facessi mi facessi meno complessi avrei meglio un bel io la banda s**chiamo gli altri chi incostro è io ti facessi mi facessi meno complessi avrei meglio ma eri in live di grima di successi pensa quando mi ha tenuto la quante cazzatura l'ha diretta però non volevo essere scortese richiedo venia richiedo venia non volevo eccomi eccomi veramente che giudone che giudone davvero porca diaz vabbè giolami ti lasciamo ti lasciamo andare a divertirti buona serata ciao ah mi sono divertita eh no va bene ciao no lo so ti lasciamo andare a divertirti fuori dalla ciao vai via ciao giolami grazie io ho le campane non sento niente in questo momento perché ho le campane porco dio oggi che cosa succede ragazzi vabbè mi ha scritto un ragazzo che diciamo che aveva delle voleva cioè nel senso diciamo che voleva spazzare per terra con me c'è un ragazzo che ti ha chiesto di fare sesso sì magari non era ok come è stato io ho detto no no io ho detto guarda caro io sono patata dipendente mamma mia cioè neanche son fidanzato ma che te devo dire ma mi ha risposto è un po' razzista come battuta questa cioè tu hai minimizzato il fatto che abbia origini cinesi e quindi il suo nome d'essere per forza cinesi la trovo un po' di percara perca puttana ladra bastarda impestata di merda puttana di quella ladra puttana ladra impestata smegma maiale per te sono lame lame infana comunque è un ragazzo giovane che sta parlando che è collegato eh quanti anni hai? ha detto Andrea quanti anni hai Andrea? 24 ora sta cantando? oddio ti ha detto sto bene bro un attimo è crashato Jody aspetta scusa un attimo abbiamo perso uno di nostri vi preghiamo di rispettare questa divieta anche per terza e per degli ospiti che pernotteranno dopo di voi in caso contrario sarà diventata una somma di 50 cazzo di euro per coprire le pulizie extra anche dopo il check out grazie il signore ciao Matte dove stai? sono appena uscito dal ristorante ho mangiato ma come sono? ok ho mangiato la carne ho mangiato benissimo madonna cosa fate di bello insieme? insieme non facciamo niente cioè io purtroppo che devo fare? faccio niente te che fai? adesso io vado a casa e poi entro da casa perché adesso sono fuori perché se esco dalla stanza dopo il wifi non prende più guarda perché ho preso il wifi portatile vedi? ah perché quello dove te l'ho non c'era? dai oh Rubino non c'è un culo non stai tutto il culo non smettila di darmi consigli effettivamente utili però eh sì però non va con l'hotel se non l'avrei usato vincia grande hotel eh grande hotel Savoia immagino sì 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 è giusto perché dimmi cioè dimmi in quale occasione tu ti sdraieresti su una sedia gaming questa è la definizione molto quello che ha fatto sto video secondo me deve essere arrestato la stessa ragazza non mi piace parlare in spalle però è la stessa ragazza che ha fatto questo TikTok su su TikTok eh a me piace il pisello i bag pazza pofisch i ecco proprio pazza sì 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 è un amore è una passione è assolutamente una passione sì sì a me piace il pisello la faccio pagare allora ragazzi innanzitutto partiamo voglio di farmi un bisteccone qua insieme a voi allora innanzitutto ragazzi partiamo vorrei farmi un bisteccone qua insieme a voi no 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 esatto esatto guarda che sei impallato no Vez sembra un allenatore pokemon figa così è un capopera dai scherzo va bene Alessia tu conosci Vez Gaia ma Vez era qua prima cosa fai vi state facendo la vostra live andate da un'altra parte Rubino Vez eh sì ma non lo so era un duetto con Ornella Zoccola come si chiama quella un po' no cioè quella simpatica Ornella Zoccola si chiama così no 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 chi ha detto Zoccola guarda ma io non l'ho detto Zoccola vantati Ornella Zoccola quella l'ho detto Zoccola